bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi oggi abbiamo davvero tantissime novità riguardanti la patch 14.30 e il fort nightmare e si ragazzi perché stanno venendo fuori come i funghi un sacco di cose interessanti per quello che riguarderà uno degli eventi più importanti della season di fortnite parleremo anche di concept vedremo degli spezzoni video e tanti tanti leaks prima però volevo ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno mi supportano nello shop con il mio codice creator xyuderone grazie mille ragazzi per il vostro sostegno mi raccomando non dimenticate di iscrivervi ai miei canali e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica con i miei video news e allora andiamo direttamente a parlare del primo argomento di oggi e si tratta in realtà di una cosa di cui vi avevo già anticipato ieri ma che mi serve per farvi vedere il nuovo spezzone di oggi sappiamo che tornerà in una forma un po particolare mida molti erano scettici ma queste informazioni sono state praticamente confermate con dei degli spezzoni nei file di gioco mida dovrebbe avere una variante sembrerebbe a tema halloween o comunque gli scagnozzi che staranno intorno a lui saranno un po spooky come si dice quindi spaventosi a tema appunto horror mida avrà un gold scar in mano oppure e soprattutto un placeholder quindi una scheda per aprire un possibile cavo 100 di salute 350 di shield quelli che ci interessano noi invece sono i ghostly ghost henchman quindi gli scagnozzi spaventosi ghost chiamateli un pochettino come vi pare perché potrebbero avere in mano una r una mitraglia un pompa o altrimenti un pumpkin launcher il classico lanciazucche tra l'altro ragazzi abbiamo anche una come dire uno spezzone video per quanto riguarda lo scagnozzi che dovrebbe essere questo ovviamente non lo possiamo vedere vestito perché questo spezzone è preso dai file di gioco ed eccolo qua ragazzi come andrà in giro e cosa farà come vedete quando imbraccerà un'arma classica ovviamente la sua mossa si mette in una posizione un po' ambigua e se gli sparano va leggermente indietro questo vuol dire che per la prima volta in assoluto gli scagnozzi avranno la possibilità di droppare un pumpkin launcher quindi un lanciazucche vi ricordo che la particolarità ovviamente di questo lanciarad di questo rpg è che è caricato proprio con delle zucche che al momento dell'esplosione emettono una risata molto molto a tema halloween quindi non vedo l'ora di vedere se poi arriverà a questo punto anche una nuova location se dovesse avere veramente un placeholder mida quindi una scheda punti non vedo l'ora troveremo tutto nella patch 14.30 andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché ci sono anche delle news per quanto riguarda galactus non sono molte ma ci aspettiamo di vedere sempre qualcosa dedicato perché la storia in principale del gioco in questo momento è in una fase abbastanza di stallo come sapete ragazzi la grande guerra che ci dovrà essere contro galactus che cerca ovviamente di distruggere la mappa se andate a guardare in cielo troverete che la sua stella è un po più luminosa quindi vuol dire che qualcosa si sta muovendo e ci auguriamo ovviamente che non ci deluda anche perché se devo essere sincero il compleanno di fortnite è passato un po' inosservato alla fine che cosa hanno fatto hanno fatto un copia in colla del backpack che al posto di avere il numero 1 aveva il numero 3 ci ha regalato la copertura ci hanno dato qualche piccolo oggettino ma in realtà nulla di più si quattro pezzi di torta in giro per la mappa da una parte mi dispiace mi dispiace perché forse non si rendono conto di cosa vuol dire avere un gioco a questi livelli per tre anni consecutivi o semplicemente hanno troppo in mente la storyline e le prossime season per dare peso anche al loro compleanno andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché è una meraviglia questa skin che state vedendo ragazzi purtroppo non è ufficiale ma è un concept che ha fatto letteralmente esplodere i vari siti dedicati a fortnite i forum e sembrerebbe che stia arrivando anche direttamente al team di sviluppo quindi quando su reddit un post comincia ad infuocarsi generalmente subentra anche qualcuno dello staff di epic games e valuta se sia il caso oppure no di rendere vera e questo sarebbe appunto una è un concept un concept di calamity solo quando era studentessa e come vedete con cinque stili diversi riesce ad essere davvero meravigliosa io devo essere sincero acquisterei alla grande questa skin perché li vale tutti e complimenti al creatore che ha fatto veramente un lavoro eccezionale ci auguriamo veramente che lo staff di epic games prenda seriamente in considerazione questo concept andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché vi ricordo invece che nei file di gioco dalla patch 14.20 quella che abbiamo scaricato oramai un bel paio di settimane fa erano presenti anche dei piccoli riferimenti ad halloween quindi quella che vi sto facendo vedere in questo momento è l'insegna del negozio di corso commercio quello che in realtà non esiste più in questo momento ci auguriamo anche qui che possano essere reintrodotti per dare un pochettino più di colore all'evento sappiamo però che grazie a questa scoperta ci sarà molto probabilmente una ltm dedicata a questo periodo l'ltm si chiama infected e abbiamo addirittura anche l'immagine come potete vedere che è davvero incredibile una serie di mostri che potrebbero essere tranquillamente quelli che sponavano ai tempi dai pezzi del cubo di kevin che cerca di entrare che cercano di entrare in una porta che viene invece dall'altra parte dall'altra parte tenuta chiusa non sappiamo assolutamente nulla di questa modalità non sappiamo se sarà singolo coppie o squad non sappiamo come si svolgerà il gameplay infected a noi fa venire in mente a me personalmente fa venire in mente quello che succede su fall guys che c'è una modalità un livello che è fatto così ovvero sia si comincia con due squadre una persona in due squadre è infettato e ha lo scopo di infettare tutti gli altri la squadra che rimane anche con solo un giocatore non infettato vince il game ovviamente con fortnite sicuramente ci sarà qualcosa che lo distinguerà quindi anche qua stiamo a vedere le prossime informazioni e prima di salutarvi molto rapidamente vi ricordo che anche per il periodo di halloween sembra che tornino tutte le skin che abbiamo visto negli anni precedenti quindi ragazzi se ve ne manca qualcuna questa è l'occasione giusta per potervela accaparrare anche perché questo è il terzo anno di fortnite ci sarà anche un quarto mi auguro di sì ma non lo sappiamo io per oggi vi ringrazio tantissimo per avere guardato il video news mi raccomando ragazzi un bel pollicione in su iscrivetevi ai miei canali e noi ci vediamo alle 8 in live su twitch ciao